Continuo è il no all'autonomia, il no alla riforma giustizia, no alla flat tax, no alla TAV, no addirittura alle Olimpiadi. 5 miliardi di euro di incassi, migliaia di turisti, pubblicità, immagine dell'Italia, la legittima difesa, la flat tax per gli artigiani di partita IVA, i decreti sicurezza, il blocco degli sbarchi, quota 100. La Spagna vota a novembre, la Polonia ha appena votato, l'Austria ha appena votato, la Gran Bretagna voterà, il mondo civile vota, partita IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, per carità. Non ho fatto niente, non vado alle riunioni, mangio come un bufalo, vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanziere in penitenziaria, la tassa sulle merendine, la tassa sulle bibite gassate, la tassa sulle badanti, la tassa sulla casa, la tassa sui telefonini, la tassa sui azzerati, truffati, massacrati. Ha tagliato le tasse, ha assunto poliziotti, ha fatto accordi internazionali, ha sconfitto la fame nel mondo, ha portato la pace nel mondo, la crescita dei capelli e gli italiani non se ne sono accorti. Stupratori, spacciatori, rapinatori, terroristi. Poi sono andato in Ghana, sono andato in Egitto, sono andato in Libia, sono andato in Tunisia, sono andato ai vertici internazionali, a Helsinki, a Lione, a Vienna, a Parigi, sono andato in Polonia, in Romania. Sull'immigrazione l'abbiamo mantenuta, sulla legittima difesa, sull'assunzione dei poliziotti, sulle telecamere negli asili nido, su tante iniziative, sulla legge Fornero. Esempi concreti, si parla di ambiente, Greta, perfetto, ragazzi in piazza, perfetto, emergenza rifiuti a Roma, emergenza rifiuti in Campania, fuori dalle scuole, fuori dalle case, nei giardini, nella lotta alla mafia, alla camorra, all'andrangheta. Videocamere, scuole sicure, strade sicure, spiagge sicure, blocco degli sbarchi. Votano gli Umbri il 27 ottobre, votano in Emilia-Romagna il 26 gennaio, probabilmente anche in Calabria. Votano in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Liguria e in Veneto. Allargato alle liste civiche, allargato ai sindaci, allargato agli imprenditori, agli agricoltori, agli artigiani. Camionisti che non ce la fanno più, metalmeccanici, operai, insegnanti, uomini delle forze dell'ordine. Vabbè, lui è... sono bugiardo, razzista, non ho capito la roba dei cadaveri che lui raccoglie, io non raccoglio i cadaveri. Sono buono, come sono accogliente, come sei generoso, porti aperti, la globalizzazione, il multiraziale, Erice Argiar, Easi Argento. Io sono un pericoloso mentitore, gli italiani si fanno abbindolare danni da un pericoloso mentitore. Operai, con le mani da operaio, che fruiranno di quota 100, verranno assunti 100 operai sardi. Conti correnti, a partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti e... Sei vergognosamente squallido. Gli hanno lanciato un fornelletto. Lei ha detto in televisione che è un immigrato. Quindi io mi auguro che questa sia la botta definitiva. Posso stare antipatico, ho dei difetti, ho dei limiti, ho fatto degli errori. In Friuli, in Abruzzo, in Molise, in Basilicata, in Sardegna, Trento e Bolzano. Gli elettori italiani, dei cittadini italiani, del popolo della rete, di Instagram, di Facebook, popolo di odiatori, di violentatori, di robe... No, è la verità. È del papete, è di Firenze, di Milano Marittima, della Russia, di 65 milioni, 49 milioni. Per i soldi russi, per i 49 milioni, per Facebook, per la bestia, per le folie. Quota 100, legittima difesa, decreti sicurezza, flat tax per le partite IVA. Con i francesi, con i tedeschi, con i russi, con gli esquimesi, con i cinesi e con gli americani. Spavento i bambini di colore sugli autobus, adesso mi travesto da Befana il 6 gennaio, non lo so.